Da Piazza Umberto alla spiaggia di Pane Pomodoro, da Piazza Moro alla spiaggia di San Girolamo, sali minerali e sacche di acqua, oltre a consigli utili dispensati dagli operatori per affrontare le giornate più calde dell'anno. Grazie a una collaborazione straordinaria tra l'assessorato al Welfare, Acquedotto Pugliese e le farmacie aderenti ad Agora Salute TS, operatori sociali e volontari sono arrivati nelle piazze, nei mercati e nelle strade del capologo pugliese per supportare i cittadini più fragili in questi giorni segnati dall'AFA. Nel complesso sono 10.000 le bustine di sali minerali donate da alcune farmacie del capoluogo, dove sarà anche possibile misurare la pressione e dove gli utenti potranno anche ricevere informazioni su servizi e numeri utili del piano a contrasto delle ondate di calore, predisposto dall'assessorato al Welfare a tutela delle persone più vulnerabili. Abbiamo pensato di poter alleviare con un momento tra integratori e anche acqua, grazie anche all'Acquedotto Pugliese che ci ha fornito queste sacche da 5 litri, per poter dare per strada in questi giorni di grande caldo la possibilità a tutti, anche per coloro i quali vivono ovviamente senza dimora, una possibilità di alleviarsi.